E' sempre parola di Francesco Amadori, ma questa volta chi parla è una moderna coppia, Amadori, formata da Teresa Mannino, simpaticissima star di Zelig, e Valerio Morigi, attore della serie Romanzo Criminale. A loro due, per la regia di Luca Lucini, è affidata la nuova campagna pubblicitaria del gruppo Amadori, in onda da domani e sino al prossimo 19 marzo, sulle principali emittenti televisive, Rai, Mediaset Sky, La Sette Alice e Teleromagna, e anche online. E allora vediamoci, in anteprima assoluta, un paio dei nuovi spot Amadori. Amadori! Parola di Francesco Amadori! Parola di Francesco Amadori! Amadori presenta le due facce della passione, i fidatissimi, pollo e tacchino in una croccante e gustosa panatura, e i cuorleggeri, filetti di pollo impanati non fritti. Stasera? Fidatissimi, eh! Non credo proprio stasera cuorleggeri! Quando la smetti di nascondermi le padelle? Quando tu la smetti usare il tostapane come portatocumenti. Tanto i fidatissimi vanno anche in forno. Anche i cuorleggeri! Amadori presenta le due facce della passione, i fidatissimi, pollo e tacchino in una croccante e gustosa panatura, e i cuorleggeri, filetti di pollo impanati non fritti. Non dividere il forno con nessun altro al mondo. Parola tua, parola di Francesco Amadori.